Benvenuti sulla piattaforma di Gamsgo dove offre tantissimi servizi come il chat GPT 4.0 con 11 euro al mese al posto di 20 euro al mese più il codice promozionale che vedi sullo schermo da inserire qua sopra, hai un codice promozionale o un cubon e qui metti il codice promozionale se ti può far comodo il Gamsgo che ti permette di risparmiare su tanti servizi come puoi vedere il Gamsgo offre tanti servizi, il supporto è 24 ore su 24 se non sei soddisfatto puoi sempre rimborsare il servizio a Netflix, Spotify, Youtube, Disney+, ma adesso hanno aggiunto anche il chat GPT quindi come funziona? in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di Gamsgo quindi clicca direttamente sul link di Gamsgo.pro ti porterà sulla pagina di Gamsgo vai direttamente, accedi, puoi accedere con qualsiasi account Google perché così facendo quando andrai a comprare il chat GPT ti manderanno per via email le credenziali oppure puoi sempre controllare sulla persona qua e vai su I miei abbonamenti quindi facciamo accedi una volta entrati così su Gamsgo con il mio account, questo è il mio account vado qua su, vado su I miei abbonamenti ed eccoli qua questi erano i miei vecchi abbonamenti che ho fatto sulla piattaforma perché ho comprato Paramount+, Disney+, Netflix e nei commenti c'è anche un video dove io compro direttamente Paramount+, e faccio anche l'accesso alla piattaforma poi una volta che compri, poi se sei interessato, se compri il chat GPT ti manderanno le credenziali, quindi l'email e la password vai sul sito del chat GPT ed eccolo qua semplice, inserisci l'indirizzo email e la password e continui e c'hai il chat GPT, l'abbonamento di 11 euro al mese se ti può far comodo c'è anche quello di Youtube, Disney+, Spotify, Teaser e altri servizi per ascoltare musica e guardare serie tv e film quindi GAMBSGO è un'ottima piattaforma per risparmiare su tantissime piattaforme streaming e ascoltare musica te lo consiglio veramente se vuoi risparmiare un sacco di soldi quindi se questo video ti è stato utilissimo su come usare GAMBSGO e accedere ai propri servizi risparmiando anche il chat GPT che hanno aggiunto poco fa come puoi vedere ci sono anche persone che lo comprano hanno acquistato 7 giorni fa puoi sempre vedere qua sotto 2 giorni fa, 6 giorni fa, 6 giorni fa tutte le persone che comprano su GAMBSGO quindi grazie a tutti per questa visione grazie per il vostro tempo sempre il codice promozionale per risparmiare sul servizio che tu vuoi comprare iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao